Le parole che parlano di un'esperienza sono vere, cambieranno la tua vita se glielo lasci fare, poiché provengono direttamente dal cuore di Dio. Egli ti ama, e Lui è il Padre che tu hai sempre cercato in tutta la tua vita. Questa è la sua lettera d'amore per te. Figlio mio, forse tu non mi conosci, ma io so tutto di te. So quando ti siedi e quando ti alzi. Io conosco le tue abitudini, conosco persino il numero dei capelli che hai in testa, perché sei stato creato a mia immagine. In me tu vivi, ti muovi e hai il tuo essere, poiché tu sei la mia progenie. Io ti conosco prima che tu fossi concepito. Ti ho scelto sin dalla creazione del mondo. Tu non sei stato uno sbaglio, perché tutti i tuoi giorni sono stati scritti nel mio libro. Io ho deciso il momento esatto della tua nascita e i giorni che vivrai. Tu sei stato creato in modo stupendo e meraviglioso. Io ti ho formato nel grembo di tua madre e mi sono preso cura di te fino al giorno della tua nascita. Sono stato presentato male da coloro che non mi conoscono. Per questo sono molto indignato, ma sono anche l'espressione completa di amore e il mio desiderio è solo quello di amare, perché tu sei mio figlio ed io sono tuo padre. Io posso offrirti molto di più di quanto il tuo padre terreno possa fare, perché io sono il padre perfetto. Ogni buon dono che ricevi proviene da me, perché io sono colui che provvede ad ogni tua necessità. Il mio piano per il tuo futuro è stato sempre adempiuto con speranza, perché ti amo di un amore eterno. I miei pensieri per te sono innumerevoli come la sabbia del mare e mi rallegro per te con grida di gioia. Non smetterò mai di farti del bene. Tu sei il mio tesoro. Io desidero stabilirti con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima e voglio mostrarti cose grandi e meravigliose. Se mi cerchi con tutto il tuo cuore, mi troverai. Trovo il tuo diletto in me e ti darò il desiderio del tuo cuore, perché sono io che creo i tuoi desideri. Io posso fare per te molto di più di quanto tu possa immaginare, perché io sono il tuo più grande sostenitore, ma sono anche il padre che corre da te tutte le volte che sei in difficoltà. Quando hai il cuore spezzato, io sono vicino a te. Come un pastore si prende cura del suo agnellino, io ti porto vicino al mio cuore. Un giorno io asciugherò ogni lacrima dal tuo volto e cancellerò ogni dolore che hai sofferto su questa terra. Io sono tuo padre e ti amo come amo mio figlio Gesù, perché in Gesù è stato rivelato il mio amore per te. Egli è l'esatta rappresentazione del mio essere. Egli è venuto per dimostrarti che sono dalla tua parte, non contro di te, e per dirti che non sto contando i tuoi peccati. Gesù è morto affinché io e te fossimo riconciliati. La sua morte è stata l'automatica espressione del mio amore per te. Ho dato tutto ciò che avevo per poter avere il tuo amore. Se ricevi il dono del mio figlio Gesù, tu ricevi me e nulla, nulla potrà mai separarti dal mio amore eterno. Torna a casa e io darò la festa più grande che tu abbia mai visto. Io sono sempre stato padre e sarò sempre padre. La mia domanda è, vuoi essere mio figlio? Ti sto aspettando. Con amore, il tuo papà, Dio Onnipotente.